Ciao a tutti, oggi abbiamo depositato all'ufficio protocollo una richiesta di modifiche del regolamento generale del Consiglio regionale. Questa modifica che obiettivo ha? Quello di rendere trasparente il lavoro di tutte le assemblee consigliari e del lavoro dei rappresentanti dei cittadini. In che modo cerchiamo di raggiungere questo obiettivo? In due modi. Uno abolendo il voto segreto. Voi sapete che nel Consiglio regionale, come nella Commissione, esiste la possibilità del voto segreto. Noi vogliamo abolire questo perché vogliamo che i rappresentanti dei cittadini siano responsabili di ogni atto di fronte ai cittadini, non solo che li hanno eletti, ma di fronte a tutti i cittadini lombardi. Altro modo è quello di rendere pubbliche ogni assemblea a cui ci siamo attivati a partecipare. Oggi c'è la diretta online del Consiglio e delle commissioni, ma ad esempio i lavori della giunta delle elezioni sono segrete. Quindi noi abbiamo tolto ogni segretezza dei lavori, delle commissioni, della giunta delle elezioni e chiediamo di rendere pubbliche e trasmesse online sul sito della regione qualsiasi lavoro assembleare. Vedi anche il lavoro della giunta per il regolamento, della giunta delle elezioni, del comitato paritetico, validazione e di controllo, eccetera. Questa è la nostra proposta che potrete andare a vedere in formato PDF sul nostro sito, quindi potete vedere con i vostri occhi quali sono state le nostre proposte.